In Abruzzo l'accorpamento ci avrebbe fatto risparmiare 6 o 7 milioni di euro che saranno buttati. Questa violazione costa anche in termini di democrazia perché il tempo dimostra che in questo momento le liste come la nostra che devono raccogliere le firme lo devono fare praticamente in un clima polare. Una situazione che impedisce di moltiplicare. Noi tradizionalmente in queste giornate in Abruzzo avremmo organizzato 50-100 banchetti in mezzo alle strade. Ci sono interi comuni dove non si può neanche uscire per la neve. Tutto questo avviene senza neanche che ci sia una norma regionale che preveda di dimezzare le firme. Se ne sono assolutamente fregati. Voglio ricordare che se ci trovassimo di fronte ad elezioni politiche nello stesso periodo ci sarebbe stato il dimezzamento delle firme. La regione Abruzzo invece se ne è fregata altamente. L'anno scorso per le elezioni politiche il numero di firme necessari a presentazione di liste è stato diminuito di quattro volte. Faremo di tutto con lo sforzo e il lavoro volontario di tutte le militanti e militanti per raccogliere le firme e presentare una lista di sinistra a queste elezioni. Una lista di sinistra che non può che essere alternativa al Movimento 5 Stelle e alla Lega. Ma non può anche che essere alternativa al Partito Democratico e alla sua coalizione. Perché non vi può essere sinistra in questo momento se alleata a un partito come il PD che è responsabile di politiche antipopolari e anche dello sfascio del governo della regione Abruzzo in questi cinque anni di governo di Luciano D'Alfonso. Non la solita minestra riscaldata di quelli che applaudivano Renzi e adesso fanno finta di essersene dimenticati.